Buongiorno a tutti ragazzi del Monster High, oggi vorrei farvi una licenza alla Befana, bene qui c'è questa cerniera al centro del Monster High che si può chiedere soltanto fino a qui qui i lacci si attaccano così, bene queste rotelle non è che funzionano in granché sulla strada e io veramente il freno ancora non lo so usare bene ma qui c'è Draculaura che è molto bella, questo è scritto, aspetta, ecco, questo è scritto Love at Part Byte Monster High ecco qui ho una recensione dei fattini, purtroppo è... grazie a tutti grazie a tutti